Se ci siamo tutti, possiamo incominciare? Sì. Chiedo scusa per il ritardo, perché so che voi siete arrivati prima di noi, che siamo milanesi, per cui segno di buona volontà. La mostra, voglio dire, è rappresentativa un pochettino di una storia che incomincia nel 1967, abbiamo detto, con l'apertura del negozio di San Bambina. E rappresenta un pochettino un percorso di quella che è stata, diciamo, la moda di quegli anni e l'arte, perché io ho avuto sempre l'impressione che l'arte e la moda camminassero un pochettino di pari passo. E la musica, voglio dire, l'evoluzione non può avvenire solo in un settore, avviene nella vita degli uomini, per cui c'è la moda, c'è la musica, c'è l'arte. E tutti assieme, diciamo, si esprimono, diciamo, secondo i valori del momento. Io ho avuto la fortuna, dico ho avuto la fortuna, di vivere un periodo molto intenso nel quale, voglio dire, le cose cambiavano. E quando le cose cambiano ti danno una grande emozione, cioè nel senso che il mondo non è statico, continuamente, anche in questo momento, il mondo è in cambiamento per la tecnologia, per la rete, per tutto quello che, voglio dire, tutte queste novità, queste opportunità che ci offre la tecnologia, ci danno spunto anche per la creatività. Io credo che mai, come adesso, mai come in questi anni, tutti possiamo partecipare alla creatività. Una volta c'era un bravissimo pittore, doveva stare chiuso, aspettare di essere scoperto, aspettare che arrivasse il critico, che arrivasse il cliente. Adesso uno fa una sua opera, la mette in internet e subito capisce, cioè è come se si fosse aperto un dialogo tra l'individuo, tra il singolo e la collettività e tutti noi. Per cui già questo è un fenomeno incredibile che state vivendo voi, dovete essere consci di questo privilegio che noi non abbiamo avuto, ma nessuna generazione prima di noi ha avuto. Se io penso quanto progresso ci sia stato in questi ultimi cento anni, penso che non è avvenuto negli altri migliaia di anni precedenti, perché, voglio dire, in un solo periodo che potremmo misurare in cento anni, perché dalla tecnologia del 1800, con l'avvento delle prime tecnologie, alle tempi nostri, è stato tutto un susseguirsi di scoperte, voglio dire, di cose che hanno cambiato la nostra vita, il nostro modo di vivere. Ma chi lo voleva e anche chi non lo voleva, perché oggi sono rimosti pochi, come si chiamano questi, questa setta in America che rifiuta il progresso, cammina ancora con i carri a cavallo? Gli? Gli? Gli Ammish. Ecco, perché alla fine, dico, tutti gli altri che sono aperti, cioè che hanno la possibilità di accedere, anche per la loro politica, per la loro cosa, al progresso, cambiano velocemente. Perché l'uomo è come se fosse una radio ricevente, se non ci sono segnali non li riceve, se ci sono segnali è sempre accesa per ricevere. Così sono le immagini, voi immaginate proprio, dal punto di vista dell'immagine, qualunque cosa nuova appaia, entra immediatamente in te, si stampa nella tua memoria, si elabora nella tua mente e incomincia a far parte di te. No, è come se tu cambiassi, è come se la persona fisica cambiasse e diventasse qualche cosa di diverso, che non era prima di aver avuto questo nutrimento che viene dall'esperienza di altri. Vuol dire che c'è un versamento di saperi, che sono quelli, diciamo, di altre persone che vengono versati dentro di noi. Per cui dobbiamo essere molto riconoscenti a chi ha portato questo tipo di evoluzione, questo tipo di civiltà, questo tipo di... È una cosa molto positiva. Dopodiché dovremmo trovarci a un punto, però, nel quale anche noi, quando dico noi dico tutti, non noi nel senso di pochi, noi tutti, perché tutti noi siamo uguali, tutti noi abbiamo gli stessi poteri e alla fine se la nostra coscienza prende coscienza, come si dice, nel senso di capire cosa siamo noi, siamo degli animali come gli altri animali o siamo qualche cos'altro. Io continuo a pensare che siamo gli animali come gli altri animali. La mia cultura religiosa non prevede che gli animali siano diversi dall'uomo. Prevede che siamo degli animali che, per fortuna, hanno avuto un'evoluzione, diciamo, grazie alla possibilità del linguaggio, grazie alla possibilità di alcune facoltà della parola e altre cose, quello di evolverci, di costruire qualche cosa, mentre altri animali hanno pensato solo a sopravvivere e a seguire quelli che erano poi dettabili dalla natura, che sono però anche quelli che riceviamo noi. Cioè, proseguire la specie, avere affezione per i propri figli, nutrirli, avere affetto, perché quella cosa che ci colpisce di più è l'affetto che hanno gli animali verso i piccoli. Cioè, questo vuol dire che la natura ha provveduto a creare questi sentimenti. Io parlo sempre della natura, perché non voglio parlare di Dio, perché Dio semplifica un po' troppo le cose. Allora, a questo punto, io vorrei partire da qui, cioè, incominciare un discorso che, diciamo, dopo aver esaminato tutto quello che è avvenuto nell'uomo, io penso di capire cos'è avvenuto. L'uomo ha incominciato a litigare come un animale qualunque per un tozzo di pane, il pane non c'era, ma per un frutto, e poi hanno incominciato a litigarsi due tribù, poi hanno incominciato a litigarsi due città, non so, se io penso che Venezia e Genova si combattevano, che Pisa e Firenze si combattevano, e oggi ci sembra una follia, perché, voglio dire, si va in gita a Firenze, ci si sposa con... voglio dire, è solo un'evoluzione, che però deve essere dentro l'uomo, cioè dentro il miglioramento dell'uomo. Capire che non c'è senso nella contrapposizione, ma c'è senso invece nell'alleanza e nell'aiuto e nella scoperta del mondo, perché il mondo è ancora tutto da scoprire, tutto da... Poi bisogna avere quella cosa che qualche donna chiamano il senso della religione, del bene e del male, io chiamo più semplicemente la coscienza, che è dentro di noi e che ci dice cos'è bene e cos'è male, perché è male anche a far male a una pianta, ed è male a far male a un animale, è male a far male a un paesaggio, è male a sporcare una cosa che è pulita, è male... cioè, voglio dire, il bene e il male, il buono e il cattivo deve essere dentro di noi, deve essere coltivato, e nessuno ce lo può insegnare. Si insegna per come, diciamo, somme linee, ma non si specifica che ogni cosa, diciamo, ha un diritto, anche queste poltrone hanno un diritto di essere belle, di essere fatte, chi le ha fatte, chi le ha pagate, chi le ha costruite, ma se uno ci spegne sopra una sigaretta, compie un gesto, secondo me, criminale, equivalente a un gesto criminale eventualmente scritto sul codice penale in maniera diversa. Però uno che io vedessi spegnere una sigaretta sul bordo di questa sedia, lo considererei colpevole, come colpevole uno che crea un danno, diciamo, morale e fisico a tutti noi, cioè dobbiamo imparare ad essere responsabili di tutti noi. Allora, noi siamo arrivati ad un certo punto della nostra civiltà, che siamo qua seduti tutti, non ci chiediamo di che razza siamo, non ci chiediamo da che paese veniamo, ci chiediamo solo se capiamo, se non capiamo, se abbiamo dei valori, se non abbiamo dei valori. Questa è una cosa meravigliosa, vuol dire che abbiamo davanti uno spazio per la mente e per l'analisi di noi stessi, che non ha più bisogno una religione, perché poi voi sapete che le religioni non sono una, una è unica, ma sono tante. Mio padre diceva, se nasci in Italia sei cattolico, se nasci in Germania sei protestante, se nasci in Egitto puoi essere islamico, se nasci in India puoi essere hindu, piuttosto che... Allora vuol dire che il bisogno di Dio non è altro che il bisogno di qualcuno che abbia un senso del giusto e che noi sentiamo di mancare di questo senso del giusto, perché non abbiamo fiducia in noi stessi. Ma se noi avessimo fiducia in noi stessi, non avremmo bisogno di Dio, perché altre volte dico, se Dio ci assomiglia, come dicono che assomiglia, è come noi, quando si troverà di fronte ognuno di noi, cioè ci giudicherà per quello che abbiamo fatto, per cui dobbiamo dire, attenzione, quello che noi facciamo non è che poi andiamo in chiesa perché i cattolici hanno inventato la... come si chiamano? Che più paghi, più va in paradiso. Le indulgenze. Perché i protestanti si sono distaccati dalla religione cattolica proprio per l'emissione di questi buoni del tesoro che si chiamavano indulgenze. Uno andava in chiesa e comprava un pacchetto di indulgenze e poi incominciava a fare quel che voleva. Ma non solo comprava il pacchetto di indulgenze per sé, le poteva comprare anche per i parenti morti. Per cui figurati i soldi che facevano, perché non c'era un teatro dove entrare ai posti limitati, no, ognuno di noi aveva il proprio posto, a casa sua, ma per poter comprare tanti biglietti quanti bastavano per soddisfare tutti i peccati che avevano fatto i nostri genitori, gli antenati dei nostri genitori. Ecco, allora per dire attenzione che la Chiesa è anche qualche cosa di molto triste e l'arrivo di questo nuovo Papa ha anche questo significato, cioè la Chiesa non può proseguire con questa ritualità e con questo modo di pensare ha bisogno di evolvere, ha bisogno di adeguarsi a una cosa. Allora, la missione mia in questo periodo è quella di pensare che se gli animali sono nostri fratelli, come sono sicuro che sono nostri fratelli, e hanno la stessa sensibilità e la stessa affettività dei nostri fratelli, noi non possiamo utilizzarli come li stiamo utilizzando, schiavizzandoli. Attenzione, io non sono fanatico, non dico che non si deve mangiare carne, io sono vegetariano, però non dico che si deve mangiare solamente vegetali, perché sennò si allargherebbe il discorso e anche i vegetali soffrono, io sono convinto che anche i vegetali soffrono, però sicuramente gli animali soffrono, gli animali, voglio dire, piangono, gli animali gioiscono, gli animali lo dimostrano, cioè se chi possiede un cane lo sa, cioè il cane è come se fosse un elemento della famiglia, cioè vive le emozioni della famiglia, la sofferenza della famiglia, e si potrebbe raccontare, ma così per tutti gli animali, gli animali vogliono bene i propri piccoli, li difendono a costo della vita e alla fine mi sembra che siano fratelli sulla terra di tutti gli uomini, e questo è il mio principio, la mia religione è che siamo tutti uguali e alla fine dovremmo comportarci tutti bene. Però gli animali ci insegnano molte volte, moltissime volte, che sono già più avanti di noi, nel senso che non torturano gli animali, gli altri animali li mangiano perché hanno fame. Io ho visto molti documentari dove ad un certo punto, voglio dire, c'è magari la tigre che prende il piccolo cucciolo di un capriolo, di una cosa, e prima di mangiarselo ci gioca, perché evidentemente ha in sé anche il senso di tenerezza, poi prevale la fame se lo mangia, però voglio dire, non è che l'ha torturato, ha giocato con lui, noi invece lo torturiamo, lo chiudiamo in una gabbia, lo facciamo ingrassare, gli leviamo il latte della mamma, ci beviamo il latte della mamma, facciamo ingrassare il piccolino, non gli facciamo più vedere la mamma, finché lo uccidiamo. Per cui molto più crudele è l'uomo di quanto sia crudele la tigre, secondo me. E questo in realtà, per chi ha studiato la tua vita, è incredibile, il tuo successo che ormai dura dal 1967, dall'inizio del tuo lavoro, il tuo successo costante, tutti i giovani conoscono Elio Ferrucci, tutti i giovani dal 1967, perché è proprio questa attenzione all'intorno, e io l'altro giorno ho linkato su Facebook una frase che dicessi appunto qualche tempo fa, dentro il mi piace c'è dentro tutto il mondo, no? E tu hai iniziato perché ti piacevano questi colori, questa libertà che c'era a Londra, nel tuo periodo quando qui non c'era ancora. quindi se racconti a questi ragazzi, chissà se loro possono dire il mi piace, come l'hai detto tu, è la libertà che c'è nel tuo lavoro che finisce col dire liberiamo anche gli animali. Che ne pensi può essere? Io trovo giusto che ci sia un passaparola, perché quello che diciamo noi qui dentro in questa sala non è che poi, se lo trovate giusto o non lo trovate giusto, sia diverso da quanto potrebbe essere sul pianeta, cioè ognuno di noi ha una sua ragione che io considero sempre comunque relativa, perché la mia è una visione relativa delle cose, non è una visione globale di tutto ciò che pensa l'umanità o tutto ciò che dovrebbe fare l'umanità. Io credo che ognuno di noi è libero, siamo stati lasciati liberi di pensare, però proprio perché siamo liberi dobbiamo essere, diciamo, orgogliosi di poter prendere una posizione che ci conviene nel senso dell'essere in armonia col nostro cuore e con la nostra anima e col nostro benessere e di condividerla e di provare a condividerla con altri, perché anche la compagnia degli altri è quella che ti rassicura. Io ho la fortuna di avere tanti amici, dopo vi racconto qualcosa di carino, tanti amici animalisti che, voglio dire, condividono, io condivido il loro pensiero perché è più avanti del mio, ma loro condividono il mio. E allora l'ultima cosa che abbiamo fatto, siamo andati a parlare con, sapete che ci sarà l'Expo a Milano, l'Expo è una manifestazione che avviene è una manifestazione che dovrebbe essere affidata ad ogni paese del mondo perché porti avanti, diciamo, un discorso evolutivo dell'umanità raggruppando tutte le opere di quel periodo dentro dei grandi spazi e perché la gente possa prendere coscienza di questa cultura, di questa cultura, la chiamo sempre positivamente io, la cultura evolutiva che si è venuta a creare. A questo punto, la cosa interessante è che siamo andati a parlare, io dico al plurale, siamo andati perché io non sono solo, sono con un gruppo di persone animaliste, con questo presidente, Sala si chiama, che è un signore di una gentilezza incredibile, e abbiamo raccontato la nostra storia, abbiamo detto che se quest'anno l'Expo avrà come titolo il nutrimento del pianeta, il nutrimento del pianeta prevede il nutrimento dell'uomo prima di tutto perché il nutrimento del pianeta è fatto specialmente per nutrire tutto evidentemente perché senza nutrimento tutto morirebbe. Il più grande nutrimento del pianeta è il sole perché se mancasse il sole in poche ore o in pochi giorni il pianeta nostro sconfavirebbe perché diventerebbe una lastra di ghiaccio. Per cui voglio dire il nutrimento del pianeta vuol dire rispettare l'ambiente prima di tutto, rendersi consci del miracolo che stiamo vivendo, del privilegio che stiamo vivendo, dell'esperienza che stiamo vivendo e comportarci di conseguenza. Vuol dire abbandonare tutte le forme di stupidità che sono le guerre tra gli uomini, che sono le invidie, che sono le... il tuo giardino è più verde del mio, cioè voglio dire... ma invece diventare un gruppo di amici con una missione che è quella di volersi bene. Io credo che essere voluti bene sia il più grande lusso che una persona possa aspirare di avere. Allora, se ci vogliamo bene, i cani lo dimostrano, quando tu gli vuoi bene, loro sono così felici che non riescono a trattenere neanche la loro emotività, devono saltare, devono... ci sono dei cani che quando il padrone si allontana per qualche giorno e ritorna, non trattengono neanche la pipì, si fanno la pipì addosso per dire ma qual è quell'amico che non ti vede per tre giorni e quando ti vede è talmente emozionato che si fa la pipì addosso a nessuno? Cioè, vuol dire che il cane nella sua emotività ha un senso di gioia che lo pervade in tutti i suoi sensi, cioè si rilascia e si rilascia dalla tensione che non ci sia più il suo amico, il suo... Allora io certe volte dico quando si studierà la psicologia dell'uomo, dell'uomo, dell'animale si scoprirà quanto gli animali siano a volte migliori dell'uomo e siano molto più sensibili dell'uomo. Per cui iniziamo questa battaglia di analisi appunto del dolore che l'uomo può provocare agli animali senza alcuna ragione. Perché non è una ragione di alimentare, dice allora l'uomo morirà di fame perché non può più mangiare gli animali. Io dico, ragionando tranquillamente dico si può anche mangiare l'animale. Quello che non si può fare è torturare l'animale. Non si può prendere una gallina e metterla in una gabbietta grande come una scatola da scarpe per far fare le uova e che non vadano disperse e che poi siano raccolte da una cinghia trasportatrice che vengano portate al supermercato perché costa qualche centesimo brava mi suggerisce. Stavo per dire lire perché sono molto vecchio. Qualche lire a meno. Qualche centesimo a meno. Allora io dico incominciamo a ragionare su tutto quello che vediamo perché l'intelligenza non è altro che vedere le cose capirle e pensare che si possono migliorare. Questa è la mia idea. Questo è il mio progetto. questo è di cui io vorrei parlare però mi sembra che in queste poche parole io ho già detto quello che se vuoi torniamo un pochettino al mio percorso ma forse loro l'hanno già ascoltato? No, no, no loro non sono stati. No, sarebbe bello. Veloce, sì perché tu parli di benessere e alla fine il benessere è stato il benessere per gli altri è stato l'elemento conduttore che ti ha fatto fare il negozio alla passarella a Milano giusto? Quello dove c'era la musica c'erano i dolci era un luogo non per consumare moda ma per stare bene no? Ecco questo. La ricerca dunque allora eravamo nel 60 negli anni 60 diciamo così per dire per parlare di un decennio che misura un po' tutto perché alla fine negli anni 50 c'è stata alla fine a metà degli anni 50 c'è stata la fine di una guerra terribile che non si può neanche immaginare se pensi che è stata distrutta una civiltà come quella tedesca un paese diciamo di scienziati di cose solo perché un regime un dittatore aveva preso il potere non si è cercato di uccidere il dittatore si è ucciso un paese e così è stato in Russia invece di pensare che era una rivoluzione bolshevica ma che non riguardava poi tutta la gente è stata invece come la Cina erano un miliardo di persone tutte messe alla schiavitù di un pazzo che stabiliva che bisognava fare quelle cose lì e allora tutte le mattine ci si alzava con la pala io sono stato in Cina ho sentito i racconti si mangiava nelle messe cioè come fosse un esercito e alla mattina chiunque ingegneri gli ingegneri dovevano lavorare i campi e nei campi si pigliavano i contadini si mandavano all'università insomma delle cose diciamo sì teoricamente anche giuste perché un contadino a volte può essere intelligente più di un professore però che uno debba portare sul fiume sulle rive del fiume per fare un argine la terra con dei cesti caricati sulle spalle di un povero impiegato che magari fino al giorno prima era lì a fare quella contabilità ha fatto sì che questa povera gente impazzisse infatti un miliardo di persone impazzite imprigionate che non potevano uscire non potevano ascoltare la radio non potevano se uno legge il libretto di Mauro gli viene un brivido tanto le cose sono stupide semplici cioè voglio dire siamo nei proverbi noi come si chiamano i frati i frati quelli che fanno il calendario i frati insomma si se piove se piove insomma dovremmo stare attenti che ci che viene l'acqua ecco tutte queste cose se c'è il sole dobbiamo riparci dal sole cioè tutta questa saggezza allora uno dice ma come uno comanda le sue visioni sono queste cose quelle sono le visioni di tutti ma sono visioni molto offensive secondo me per la mente umana no? quando si sta parlando di cose scientifiche di cose infatti sono rimasti primitivi e non volevano che entrassero in informazione non volevano che entrassero i computer non volevano che entrassero le automobili non volevano che entrassero nessuno nessuno poteva come adesso in Corea cioè si preparano a fare un'altra guerra che senso avrà oggi sul pianeta fare una guerra perché fai delle automobili come le sta facendo la Corea del Sud e vendile oppure fai delle scarpe come le fa la Cina e avrai la ricchezza avrai la pace senza bisogno di buttare una bomba atomica su un paese che fai un milione di morti bambini ospedali tutti allora il mondo è semplice solo che c'è della gente che ama complicarlo e queste persone che amano complicarlo non sempre sono voglio dire persone qualunque sono persone che possiedono il potere di uno Stato ecco quello che fa paura va bene però adesso sono andato fuori il tema come sempre io faccio eravamo arrivati a dire cosa dobbiamo fare noi giusto allora noi cosa faremo all'Expo all'Expo faremo una cosa faremo una serie di gabbie come immaginate questo padiglione ci sarà un padiglione come questo e una serie di gabbie gabbia è misura di uomo dove vai dentro la gabbia ti chiudono dentro e ti accorgi che tu devi stare così e a un certo punto quando tutte le gabbie saranno chiuse verrà spiegato con un altoparlante come faccio io adesso che ci sono animali che l'uomo ha destinato a nascere e a crescere nascere artificialmente non con la mamma ma con un uovo messo in un incubatorio e sarà lì tutta la vita da aspettare facendo uova perché i maschi vengono messi su una cinghia trasportatrice che li mette dentro un tritatutto cioè una cinghia mettono sui maschi e vanno tutti nella spazzatura ma che non è spazzatura perché è cibo per tutte le altre galline allora i maschi vengono messi sulla cinghia trasportatrice le femmine che io dico sono le più disgraziate perché io vorrei essere un maschio per andare nel trasportatore almeno la finisci devono stare lì sei mesi dentro una gabbietta fare uova 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 quando non fanno più uova che non hanno più produzione di uova vengono estratte vengono uccise e vengono mandate al mercato allora io dico se noi non facciamo provare alla gente cosa vuol dire sul proprio fisico sul proprio spirito un evento di questo tipo noi non risolveremo nulla allora parlando appunto con questi signori dell'espo abbiamo detto noi non vogliamo fare teoria fare parole dire parole vogliamo far provare alla gente cosa è quella cosa lì se qui ci fosse una fila di gabbie e le persone potessero entrare nella gabbia e potessero provare cosa vuol dire stare anche dieci minuti nella gabbia si renderebbero conto di quanto è meglio comprare le uova quelle fatte diciamo dai contadini quelle biologiche che non quelle industriali che costano qualche lira meno ma portano dolore e così per gli animali perché si deve chiudere un povero vitello in una gabbia dove non si muove per fare qualche chilo in più di carne anche questo allora sembra che questo signore assieme al professor Veronesi che è un genio secondo me lui è sostenitore che per esempio la carne sia portatrice del cancro sia uno degli elementi di creazione del cancro nel corpo umano che non è nato per essere carnivoro perché la nostra conformazione della bocca la nostra conformazione del intestino non corrisponde a quella di un carnivoro corrisponde a quella di un omnivoro cioè come le scimmie che possono mangiare carne ma non possono diventare non possono diventare carnivori totalmente ecco allora con il professor Veronesi con il professor Sala con altre persone abbiamo deciso di fare questa manifestazione appunto sulla protezione degli animali da allevamento e che siano sia animali da allevamento ma che gli sia data a loro la dignità della vita cioè che la mucca possa fare il vitello e possa anche vederlo dopo che l'ha fatto perché glielo levano ancora prima che lo gli esca cioè gli levano il vitello lei non lo vedrà mai più arrivano al palpeggio che prendono una mucca di grande qualità la fanno fecondare con una siringa di un toro di grande qualità estraggono l'embrione della mucca di grande qualità dopo un certo numero di giorni si forma l'embrione e lo innestano in una mucca di seconda qualità in maniera da rendere libera la mucca di prima qualità perché 12 volte all'anno produrranno 12 vitelli di grande qualità ecco quando l'uomo arriva alla mostruosità di queste cose io dico siamo in pericolo perché l'animale è ridotto a macchina ma veramente è una cosa terrificante se uno ci pensa che possa avvenire sulla faccia della terra ecco questa è la prossima missione proteggiamo l'ambiente proteggiamo la natura andiamo contro tutti coloro che creano incendi nei boschi se tu pensi che c'è una persona che può incendiare un bosco e distruggere nidi animali piante per quale ragione non si sa ragazzi posso insomma quando si incontra un artista è sempre così l'artista vi porta in un mondo diverso da quello che magari uno si aspettava non so se qualcuno di voi vuole fare una domanda a Elio Fiorucci nel frattempo vedo che sono arrivati Vincenzo Trione e Ferdinando Scianna che sono io ti invito a restare se ti fa piacere che sono i due autori che dobbiamo incontrare Trione non so se è uscito ah ok sta arrivando quindi l'invito a venire qui ragazzi se ti fa piacere rifare noi no no volete fare una domanda voi avevate studiato il lavoro di Elio Fiorucci adesso lui vi ha regalato questo librettino che davvero ci è raccontato dentro un mondo quindi qualcuno di voi vuole fare una domanda ad Elio Fiorucci quello che ci veste tutti da tanti anni ragazzi superate la paura dai come è nata la sua passione per la moda? come è nata la sua passione per la moda? per la? per la moda per la moda la passione per la moda è una passione che viene diciamo istintiva nel senso che i miei avevano negozi di scarpe di pantofoli io dico sempre erano cinque fratelli tutti e quattro bravi a scuola io ero quello meno bravo a scuola mio padre mi ha detto sai cosa faccia di nuovo? tu pensi di fare nulla invece vieni in negozio e lavori per me è stato un regalo perché stare in negozio stare con la gente parlare con la gente mi è sembrata una liberazione non avere più il professore che ti vuole insegnare qualche cosa ma qualche d'uno che ti chiede una cosa la puoi condividere o no e condividere qualche cosa che tu hai tu hai comprato quella borsina giusto? se a un certo punto trovi qualche d'uno che dice che bella è quella borsa ma io la farei anche rossa con i puntini gialli tu diventi allegra dici ma che bello che io posso lavorare assieme a qualche d'uno e a produrre qualche cosa perché la creatività non è solitudine la creatività è confronto con gli altri cioè alla fine ci vestiamo ci circondiamo di cose che alla fine ci piacerebbe anche condividere con gli altri la moda è quella cosa lì bella che tu fai un vestito fai una maglietta e alla fine è bello che trovi chi la condivide e chi la ma è molto semplice non dovete spaventarvi davanti all'idea della creatività la creatività è una cosa che hai dentro non devi aver paura di averla e pensare che gli altri possono avere la stessa tua idea che non sei unico ecco che sono molto imparazzato a prendere la parola dopo. Tu devi solo raccontare quello che hai fatto. No, lo so, io devo raccontare semplicemente quello che ho fatto. Però voglio dire, tu parli in un modo talmente piacevole da ascoltare, così preciso e così piacevole, così interessante. Io mi sento imbarazzato. Comunque io non farò altro che raccontare un pochettino il mio percorso e aggiungendo al mio percorso diciamo quelle che sono state poi le esperienze che io ne ho ricavato e forse perché ho fatto certe scelte, cercare di spiegare, perché poi quello che ho sentito io credo che lo sentiate tutti e lo sentiamo tutti, cioè non c'è nulla di speciale. C'è stata un'opportunità io credo, sai, che sia stata quella dell'epoca, della stagione. Pensa che noi dobbiamo partire per parlare di questa cosa del dopoguerra, 1960. Noi usciamo da una guerra dove alla fine eravamo tutti rimasti scioccati, traumatizzati perché dopo bombe atomiche, campi di concentramento, distruzioni intere di città, morti inutili, cioè tutti inutili perché i morti delle guerre sono tutte persone che avevano, potrevano partecipare alla nostra vita, potevano partecipare alla loro vita, diciamo così. Io c'è troppo e resto scioccato da quanto sia grave quest'idea della non accettazione della pace come principio della convivenza dell'uomo. Allora, scioccati noi giovani da questa cosa della guerra, cercavamo qualche soluzione e la soluzione io la cercavo senza saperlo di cercarla, cioè nel senso che pensavo che come ero spaventato io dalla guerra ci saranno state altre persone spaventate. E così ho incominciato a leggere qualche cosa, a guardarmi attorno e ho sentito che nascevano dei movimenti nel mondo, dall'Australia che non era breve, ha poi vissuto molto la guerra all'America, all'Inghilterra, questi movimenti diciamo di pacifisti che erano gli hippie, non avevano un'ideologia politica, gli hippie erano dei personaggi che peace and love era il loro motto, cioè pace e amore. Non occorre altro nella vita che la pace e l'amore, tutto il resto c'è. E allora ero molto colpito dall'idea, siccome non amavo nessuna ideologia politica, di vedere, di conoscere come vivevano queste persone. E così sono andato a Londra, ho incominciato a guardarli, a curiosare, a guardare dentro un pochettino il loro modo di essere e ho capito che non avevano nessuna aggressività, cioè erano vestiti in modo diverso, per cui la gente quasi li temeva, perché alla fine chi non era vestito in maniera regolare, in maniera formale, si sospettiva perché finora quelli che si vestivano in maniera diversa erano dei personaggi imprevedibili. Invece trovavo in loro una gentilezza, una, come dire, proprio qualche cosa che addirittura mi commoveva, perché era come un gesto di amicizia che loro facevano quando ti incontravano. E sono rimasto colpito e ho detto, qui sta succedendo qualche cosa di nuovo e che sarà importante. E ho incominciato a girare Londra. Girando Londra ho visto che esistevano già dei negozi che vendevano dei prodotti, ho visto che c'era la musica e incominciava la musica di Beatles, dei Rolling Stones, cioè c'era tutto un movimento di giovani che non volevano appartenere alla società ufficiale, anzi che facevano un po' paura alla società e che invece erano molto seguiti dai giovani. Istintivamente c'era una specie di affascinamento, di fascino che questi ragazzi emettevano. E allora, affascinato da questo, ho incominciato a voler approfondire, a conoscere un po' di più, ho conosciuto alcune persone interessanti, anzi adesso stiamo cercando di scrivere un libro per non perdere la memoria di tutte queste cose, di tutti questi incontri e anche di tutti questi nomi. E sono tornato a Milano dicendo ai miei genitori, come diceva la professoressa, io venivo, siccome siamo cinque fratelli, tutti e quattro bravi, io l'unico che non ero bravo a scuola, allora mio padre mi ha detto tu non pensare mica di cavartela così che fai un viaggio a Londra e che te la cavi dicendo che cambia il mondo. E io ho detto no, 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 io voglio di fare qualche cosa, voglio di lavorare, ho voglia però di fare delle cose che qui non ci sono. Così all'inizio si erano un attimo spaventati, cosa vuol dire? No, voglio un negozio dove ci sia la musica, dove ci siano i libri, dove ci sia tutto quello che serve ai giovani, che piace ai giovani, ma che non sia formale. In San Babila, dove nasce questo negozio, i negozi si chiamavano Duca d'Este, Principe di Galles, insomma è proprio la formalità della formalità. Io invece chiamo una scultrice che si chiama Amalia del Ponte e gli dico voglio una scatola bianca con delle luci dentro e una musica come fosse una discoteca. E cosa venderai? Venderò di tutto quello che mi capita, posso andare in India a trovare dei vestiti indiani, posso andare in Africa a trovare delle cose africane, possono andare a Londra. E lì nasce questa specie di bazar, di luogo, dove più che un negozio diventa un luogo di incontro. Ecco dove c'è la matrice di incontrare musicisti, di incontrare. La sera dell'inaugurazione arriva addirittura Adriano Celentano con la sua Cadillac e che con sopra tutto il clan scende e entrano in questo negozio, sembrava di assistere a un film americano degli anni 50, dove arrivavano queste scene che erano per noi così stravolgenti. E lì incomincia però il successo, perché sembrava che la città aspettasse qualche cosa di nuovo, di diverso, come luogo d'incontro, come luogo di, come dire, de paixement, dicono i francesi, di uscita dal normale. E lì incomincia la mia fortuna, perché passa anche Secchi, Secchi sai che era stato il fondatore, non Secchi direttore del tempo, ma Secchi direbbe fondatore di Panorama. E chiama Mirian Decesco, che era la redattrice di Panorama, dice guarda ho visto questo negozio che ha fatto Fiorucci, è una cosa che va vista. Panorama era l'unico giornale di costumi che usciva in Italia, perché in Italia c'era solo Panorama e l'Espresso non c'era ancora. Allora a questo punto chiama Mirian Decesco, fanno un grande servizio, dopo 4-5 giorni esce questo servizio e questo negozio incomincia ad essere centro di curiosità. La gente veniva a vederlo, vedeva questa gente in vetrina che ballava, sentivano questa musica, cosa dicevano ma cos'è questo, un manicomio, una cosa strana. Invece non avevano capito che era un luogo per i giovani, dove i giovani potevano entrare, comprare, ma non era necessariamente che fosse la forma di un negozio, era la forma di un gruppo di amici che potevano stare assieme e lì è incominciata la ricerca di una formula che non fosse quella del negozio, ma forse quella della collettività, del posto. Arrivavo con le mie bagagli, le mie valigie, aprivo le mie valigie e tiravo fuori i miei vestiti indiani o i miei vestiti marocchini e diventavano il prodotto di vendita. Cioè era diventata una palestra dove alla fine la gente era incuriosita. Diciamo che poi sono state tante circostanze positive. In quel momento c'era a Milano la nascita di questi movimenti, parlavo prima con Mendini, voglio dire l'alchimia, voglio dire tutti questi movimenti, gli archizum, voglio dire tutti i movimenti dell'architettura rivoluzionaria che sono nati in Italia sono nati a Milano. La cosa straordinaria che succede anche è che questo negozio bazar, perché è un negozio bazar, suscita la curiosità della Montecatini. Montecatini era Montedison allora. La Montedison aveva comperato a suo tempo, se era la periodo della nazionalizzazione, tutte le fabbriche di fibre artificiali più tutte le fabbriche di tessuti e di confezioni industriali. Passa davanti il presidente, vede questo negozio, entra, si fa spiegare un attimo di cosa si tratta, mi manda a chiamare e io gli dico appunto che cos'era, un negozio sperimentale nel quale fare a Milano una specie di sperimentazione di quello che succedeva a Londra o poteva succedere a New York, dove non ero ancora stato ma sapevo che c'era. Allora mi dice, è interessante, facciamo un colloquio e lì nasce la fondazione che si chiama Centro Design Montefibri, perché la società si chiama Montefibri. Allora io chiamo da Firenze gli Archizum, se tu conosci Branzi e conosci tutto il gruppo dei ragazzi, io prendo dei ragazzi dalla Francia, prendo dei ragazzi, insomma creiamo un centro di design che era il primo centro design che ci nascesse in Italia, in corso Vittorio Manuale avevamo due piani interi dove si faceva sperimentazione e pubblicazione di cose immaginarie e future, perché poi i tessuti servono per vestire, ma servono anche per, questo è anche un tessuto, cioè voglio dire c'è il tessuto di arredo e c'è il tessuto di abbigliamento. E quella è stata, se vuoi, la forza nostra che ci ha dato lo spirito per proseguire. E proseguendo l'attività del negozio proseguiva anche l'attività di questa società che era parallela al negozio. Dopo un certo punto abbiamo pensato appunto di riaprire un negozio a Londra, di aprire un negozio a New York e portandoci sempre dietro come bagaglio, come diciamo tutte le persone che io avevo conosciuto, creative e che appartenevano a un mondo diciamo di cambiamento, di naturale e che non sapevano ancora esattamente, voglio dire non c'era ancora uno stile, Memphis o alchimia o non avevano uno stile preciso, ma volevano mettere in comunicazione l'architettura, il design con la moda e volevano portare il colore, insomma voglio dire c'era tutto un discorso e non era anche lì un discorso politico, ma era un discorso se vuoi di costume, cioè avere il coraggio di rompere con questa estetica diciamo borghese che aveva bloccato tutto per cui l'architettura doveva essere fatta dagli architetti che avevano un certo nome, una certa cosa. Invece lì arrivavano questi ragazzi, se tu pensi nello studio di Ettore Sozzas, ha coltivato oggi i cinque o sei architetti più importanti d'Italia e importanti nel mondo, sono nati tutti dentro lo studio di Ettore Sozzas e con Ettore Sozzas avevamo creato una specie di sodalizio per cui alla sera si andava la Torre di Pisa e tutti assieme intorno a un tavolo discutevamo di tutte le cose possibili. Questa è stata diciamo una casualità che la città di Milano ha offerto, cioè ha offerto un mercato per il negozio, ha offerto un mercato per lo studio del centro design Montefibre, ha offerto diciamo l'opportunità perché si potesse fare sperimentazione. Noi pubblicavamo due libri all'anno, ce n'è uno che ha pubblicato Clino Castelli che è un'opera d'arte sui colori, la cosa del colore e c'è come copertina c'è un grande scarabeo, sai che lo scarabeo cambia colore e c'è solo questo scarabeo, c'è una grande copertina e dove aprendo questo libro tu vedi tutta la possibilità e la gamma e la varietà e la variabilità del colore. Cioè facevamo cose che erano molto scioccanti per l'epoca perché non erano cose come dire omologate o eccetera. Questa è stata una grande esperienza, è stata una grande esperienza frequentare persone importanti perché da soli secondo me la solitudine non è creatività, la solitudine è tristezza, la creatività è stare assieme, è lo scambio delle idee e a volte anche litigare ma avere delle idee sempre diverse. Poi apriamo il negozio diciamo a New York e lì inizia un'esperienza straordinaria perché bisogna essere assistiti anche dalla fortuna. Cioè apro un negozio a New York, un negozio alla 59esima strada East, West anzi perché verso Blumenthal al 127 e appena aperto il negozio dopo un paio di mesi passa di avanti al negozio Andy Ward. Andy Ward si incuriosisce di questo negozio, entra e scrive nel suo diario, se leggete il diario, sono stato a vedere il negozio Fiorucci, c'è tutto quello che mi piace, è tutto colorato, tutto di plastica. Il negozio era stato progettato da Ettore Sozza e Andrea Branzi e lui incomincia a frequentare il negozio, mi invita a frequentare la sua factory e alla fine nasce questa specie di collaborazione e di affetto per cui poi nasce lo studio 54. I proprietari dello studio 54 mi invitano a fare da sponsor allo studio 54. Andy Ward si frequentava tutte le sere lo studio 54. Ma una cosa interessante che vi voglio raccontare è questa. Una volta nella factory, prima di tutto bisogna dire questo, che parlare con Andy Ward era quasi impossibile, nel senso che lui non diceva quasi nulla. Questo era il mistero di Andy Ward. Capiva tutto, ascoltava tutto, ma non diceva molto. Allora ci invita, lì eravamo un gruppo di noi fioruccini, diciamo, e mette il microfono al centro del tavolo, si siede un attimo a fare colazione, poi si alza, incomincia a fotografarci, poi viene lì, si siede, ascolta un attimo e poi se ne torna via. E noi eravamo tutti scioccati da questo comportamento. Però ho avuto il tempo di dirgli questo. Perché mi piacciono così tanto i tuoi quadri, diciamo, sembrano così moderni, mi sembrano moderni, i tuoi quadri. E lui ha detto, semplicemente, perché io usando i colori del neon di New York, perché io non faccio altro che guardare i neon di New York, e traduco il bianco e nero delle fotografie o dei quadri importanti nei colori del neon di New York, nei colori florescenti, per creare la mitologia della contemporaneità. Io l'ho trovato geniale, perché ho detto, senza saperlo, la nostra contemporaneità è la luce. È la luce che viene dallo schermo, è la luce che viene dalle lampade. L'invenzione della luce elettrica colorata ha trasformato il nostro mondo. Questo mi ha colpito molto, ma il fatto che io fossi già arrivato però a New York, con i colori florescenti, lo aveva colpito ancora di più. Dicendo però così, io non sapevo cosa rispondere, perché poi il mio inglese era un po' traballante, ho detto, sì, a me piace però New York, perché si parlava sia bello a New York di così, a me piace New York, però io sono un contadino, vengo dalla campagna e la cosa che mi piace di più è stare in campagna e vivere in campagna. E lui non ha risposto nulla. D'altra parte, davanti a Andy Warwick, che ti dice se ti piace New York, cosa dici di New York, cosa vuoi rispondere? Sì, bellissima città, meravigliosa, piena di arte, piena di teatri, piena di cose. Io gli ho voluto rispondere una cosa che per me era reale, cioè io quando tornavo a Milano, andavo in montagna, in campagna, stavo a me. Lui, dopo due mesi, mi invita a casa sua e mi porta a vedere casa sua, cosa che non faceva vedere a nessuno. E mi accorgo che a casa sua c'erano solo quadri dell'Ottocento inglese, tutti che erano paesaggi di campagna, perché lui viveva, vive ancora, però Bocco la cellula, Ryan D è morto purtroppo, Bocco la cellula è ancora lì. E ha la casa più bella di New York, fatta di quadri dell'Ottocento che raccontano solo scene di campagna. Questo per dirvi come una persona intelligente, non è che dice io sono Andy Ward, esiste solo la pop art, amo solo la pop art. Lui voleva dirmi, ma tu pensi che io possa amare solo la pop art. Lui mi ha così con un invito dimostrato, dice sì, anch'io posso amare la pop art, l'ho inventata, voglio dire. Però a un certo punto mi ha fatto vedere come alla fine tutti noi abbiamo delle radici in campagna e non dobbiamo vergognarci di averle, perché la nostra natura vera è lì, non è nella factory di Andy Ward, nemmeno nel negozio di Fiorucci. Allora questa grande mia semplicità nel raccontare le cose, nel dire le cose, devo averlo così colpito, per cui è nata una spontanea simpatia. Quando sono tornato a Milano, io avevo detto, avevo detto a Kittering, io avevo conosciuto Kittering allora, avevo conosciuto Basquiat. A proposito, io ho prodotto un film con la Cineriz, con Basquiat, Jean-Michel Basquiat, film che è l'unico film che esiste sulla vita di Basquiat ed è un capolavoro storico che resterà nella storia dell'umanità, perché Basquiat purtroppo non c'è più. Però questa cosa qui per esempio di fare, di cercare di fermare anche il mondo, fermare quello che succedeva, era una cosa che a me piaceva. E questa cosa di Kittering mi sembrava talmente straordinaria, perché l'avevo conosciuto. Ecco, questa per esempio è una cosa che se vedete è l'invito di Madonna al suo primo concerto. Ho avuto la fortuna di incontrare la gente ancora prima che diventasse importante. E questa era stata la mia fortuna, capisce? Madonna che fa il suo primo concerto e lo fa allo Studio 54, dove io ho sponsorizzato l'apertura e canta per la prima volta allo Studio 54. Ecco, queste sono casualità, non si possono ripetere, salvo che non ci sia una nuova Madonna, un nuovo Studio 54, che è un po' difficile. Ecco, qui è Truman Capote, perché poi lui mi chiede, Andy Warren mi chiede di firmare, e se andate su internet lo vedete, perché se cercate Elie Fiorucci, Truman Capote, Andy Warren, New York, a un certo punto troverete questo filmato che dura dieci minuti, dove Andy Warren nella vetrina di Fiorucci lancia la sua rivista Interview. Anche questa è stata una cosa, direi, fuori dal mondo, perché alla fine, che lui lanciasse lì il suo giornale, tant'è vero che io gli ho detto ma scusa, con tutti i musei che ti aprono le porte, tu lo fai nel negozio Fiorucci? Mi ha detto no, perché nel negozio Fiorucci c'è l'atmosfera. Infatti c'era questa atmosfera che assomigliava molto alla Factory, dove tutti facevano tutto e dove gli artisti si mischiavano con le persone normali. Per cui lui riteneva più giusto... Ecco, questo è l'invito, vedi, di Madonna. Questa qui è la... come si chiama? L'attrice. Ecco, diciamo che la fortuna, perché non è tutta capacità, questo è Basquiat. La fortuna molte volte aiuta, devi anche... io credo che un periodo come questo sia difficile da... che si ripeta, perché è stato un periodo di cambiamento. Ti posso fare una domanda? Sì. A parte che ci devi anche raccontare una cosa che secondo me è un po' sfuggita dalla tua trama, cioè l'incontro con la Montefibre, che cosa provoca nella tua storia? I jeans? Sì. Ah, ecco. E questo non l'hai detto, che è una cosa interessante. No, la cosa... ecco, sono... dunque, la cosa divertente è l'invenzione... l'invenzione del fashion jeans. Voi tutte donne portate il fashion jeans e il fashion jeans è fatto da tutte le aziende del mondo. Una volta c'era solo le Levi's che faceva i jeans, la Lee e la Wrangler. Tre aziende al mondo producevano i jeans per tutto il mondo. Ad un certo punto a me è capitato questo, di andare una volta a Ibiza e di vedere delle ragazze hippie, perché io ero innamorata di queste figure così che lasciavano il paese, lasciavano la ricchezza per andare a passeggiare in riva al mare o andare in India a piedi, così, e vedevo che avevano questi jeans azzurri, che erano tutti Levi's 501, che si strizzavano sul corpo, poi entravano nell'acqua, uscivano dall'acqua per cercare di dare la forma al sedere e farli diventare un po' più femminili. Io ho detto, ma se ci fosse una ditta che fa il jeans adatto alla donna, figurati come sarebbero più contente che quanta clientela ci sarebbe che li vuole. Allora io torno a casa per combinazione, ma poi mi sono dimenticato, avevo comprato un rotolo di denim, denim voi sapete che è il tessuto per fare i jeans, e combinazione mi capita a Mario Morelli, che era lo capo stilista di Valentino, e gli dico, e lui mi dice, io sono milanese, però lavoro da Valentino che sta a Roma. A un certo punto mia moglie vuole che io stia a Milano, adesso vedo che la Fiorucci va molto bene, mi piacerebbe che lei mi desse un posto. Io gli ho detto, guardi, le do una sfida, se lei riesce a farmi un jeans da donna, questo è il tessuto, lui lo tocca a me e dice, Fiorucci, lei è matto, perché questo qui è un tessuto da lavoro, che si usa solo per gli abiti da lavoro, e noi siamo abituati con tessuti leggerissimi per fare le forme femminili, è impossibile che si faccia una forma femminile. Io dico, no Morelli, proviamo a ammorbidirli, proviamo a bagnarli, proviamo a fare... Insomma, siamo stati qualche mese a fare esperimentazione. Ad un certo punto, a forza di ammorbidirli, a forza di ammorbidirli, a lui è venuta in mente un'idea di prendere il cavallo, voi sapete cos'è il cavallo, è l'incrocio delle cuciture che vengono dal davanti, dal di dietro e dalla gamba. A un certo punto portarla un pochettino più avanti, in maniera che facesse un push up dietro, e a un certo punto abbiamo fatto il primo jeans, lo abbiamo provato a lavare, l'abbiamo provato a farlo mettere. Effettivamente cambiava totalmente l'immagine, nel senso che valorizzava di dietro il lato B delle donne, e a un certo punto le prime volte che dovevano mettersi si straiavano per terra e si dovevano tirare sulla cerniera con fatica perché erano molto stretti davanti e avevano lasciato un pochino più di spazio dietro. Per cui, voglio dire, da quest'idea di modificare anche un prodotto cosiddetto definitivo, perché il 501 sembrava un prodotto definitivo, cioè chi avrebbe avuto coraggio di mettere le mano su un paio di jeans? I jeans sono quelli e nessuno li tocca. Invece io ho detto, no, anche il jeans può diventare un'altra cosa. Molte volte uno pensa che deve fare chissà quale invenzione, fa lo stilista, chissà cosa deve inventare, io dico, incominciate a pensare di modificare qualche cosa che c'è. In effetti le grandi rivoluzioni non sono fatte, giustamente Armani hai detto tu prima, la grande rivoluzione non è stata quella di inventare una nuova giacca, di dire la giacca è troppo pesante, è troppo rigida, per la donna non va bene perché la donna non è come l'uomo, ha bisogno di far vedere il suo corpo, ha bisogno di essere sottile, ha bisogno di essere leggera. Alleggerendo la giacca ha fatto la rivoluzione della giacca moderna. Lui è il papà della giacca moderna, della giacca che tutte voi portate senza saperlo, c'è la mano di Armani che le ha modificate, che le ha rese leggere, le ha rese portabili. Ecco per dire che non sono delle grandi invenzioni, non sono invenzioni da brevetto, ma sono invenzioni che però aiutano, come il miglioramento di un'automobile, insomma. Cambiano la qualità della nostra vita. Cambiano la qualità della nostra vita. Cambiano la qualità della nostra vita. Senti, voglio chiederti una cosa Elio, questo che tu chiami, no ma io ce l'ho, questo che tu chiami una felice congiuntura, questo incontro con gli artisti Andy Warhol, Kate Haring, Brandi. Questo per esempio è Mendini che fa l'aredo vestitivo, questo è Ettore Sossas, potremmo commentare, casomai, man mano che passano, le persone con le quali che è quello che l'abbiamo fatto con loro. Ecco, questa è una foto che ha fatto scandalo perché era la prima volta che si mostrava il seno nudo, questo è Oliviero Toscani da giovane, perché io ho incominciato a lavorare con lui, questa è Donna Jordan che fa i graffiti sul muro della metropolitana, questa è una modella che guarda, sembra fatta quest'anno, questi pantaloni sembrano quelli di questa stagione, erano fatti venti anni fa. Questa è ancora Donna Jordan con un paio di jeans e questa era la grafica. Pensa che Panini ha fatto, utilizzando tutta la nostra grafica, una raccolta di figurine, forse voi le conoscerete di fama, le figurine Fiorucci, dove c'è tutta la grafica di Fiorucci e che ha venduto 100 milioni di figurine uguale a 25 milioni di bustine. Quando è venuto Franco Panini mi ha detto, sarai contento perché è venduto come il Milan, perché il Milan voleva dire che vendeva 100 milioni di figurine all'anno. Noi, mettendo le nostre figurine, le nostre pin-up, i nostri disegni, avevamo suscitato una tale curiosità. Questo l'avevamo fatto anche al ristorante, perché io non mi fermavo davanti a nulla. Questo qui era la pubblicità, vedi, del menu. Cioè, ogni cosa gli facevamo un disegno. Questo è Lino de Laurentiis, questo Adriano Celentano. Questa è tutta la storia messa dentro così un po'. Ma tu recentemente hai visto qualche cosa di simile, con questa energia creativa, con questa contaminazione. Io credo che tutto il mondo adesso è in movimento. Cioè, quello che allora era Fiorucci, oggi lo trovi. Io sono stupito. Ecco, questo è il negozio di New York. Forse questa è la scena dove c'è Andy Warhol. Vediamo se è lui. No. Che firma? Ecco. Per esempio, noi avevamo, vedi, questo era un artista. Cioè, noi come commessi avevamo tutti artisti, ballerini, tutta gente che veniva dallo teatro o dall'arte. Perché non volevo che fossero dei veri commessi. E quando entrava la gente, noi dicevamo, stai come a casa tua, non ti preoccupare di comprare, perché tu non sei qui per comprare. Ci piace già che sei venuto a vederci. Per cui era anche un luogo che stupiva un pochettino. Cioè, era una specie di club. Ecco perché alla fine poi ci hanno chiamato a fare lo studio 54 e perché poi c'è stato, quando ci sono divisi, non so se vi ricordate, Simon Garfunkel si erano divisi. Poi hanno fatto un famoso concerto per rimettersi assieme. Ci sono 400.000 persone a Central Park e io sono, siccome ho sponsorizzato io, ero sul palco con 400.000 persone davanti e il sindaco di New York assieme. Cioè, voglio dire, nella mia follia ho provato tutto, però vi posso garantire. Hai avuto tante emozioni. Tante emozioni. Ho avuto? Tante emozioni. Ho avuto emozioni, ma ti devo dire che io sono come un bambino. Tu puoi portare un bambino in qualunque posto e lui non si accorge dov'è. Cioè, io alla fine mi sembrava tutto normale e tutto logico. Cioè, voglio dire, io non avrò mai visto 400.000 persone davanti a me, però mi è piaciuto vedere come questi arrivavano con questi loro bauletti. Loro portano questo bauletto frigorifero dove sono dentro birra e birra e così. Lo portano giù della macchina, lo mettono lì, ci si siedono sopra e formano un grande teatro per 400.000 persone pieno di birra, pieno di cose. Per cui a un certo punto da sopra gli elicotteri passano, i fotografano tutto. Cioè, voglio dire, è una festa, ma non è che ti succede nulla. Cioè, non è che ti cambia a te. Tu sei lì che guardi. Cioè, cos'è che ti deve cambiare? Cioè, io mi dico, cos'è che ti può cambiare? Niente. L'unica cosa puoi dire, sono contento di aver fatto contribuito, di aver fatto questa cosa. Ma non è che la tua testa può cambiare. cioè, tu sei quello che sei. Non è che dopo uscito da lì sei diverso. Sei quello come prima, o no? Ma hai qualche nostalgia? Nostalgia rispetto a quel periodo? No, nostalgia è solo quella dell'età. Perché mi accorgo che una volta le mie amiche erano tutte molto giovani. Adesso le mie amiche, non so perché, mi vogliono molto bene, mi abbracciano, mi baciano e poi dicono vado a casa. Senti, qui abbiamo una platea di giovani. Abbiamo una platea di giovani, molti sono studenti, magari qualcuno è già laureato. Hai qualche buon suggerimento da dare a loro? Io direi di essere se stessi, di essere se stessi sempre e di non avere paura. Il mio motto è fine della paura, inizio della vita. Io certe volte penso che ci sono dei geni incredibili e che alla fine per paura non hanno iniziato una carriera. Ecco, quello che noi dobbiamo tanto a Mendini, io amo molto Mendini, tu me lo sentirai citare non so quante volte, amo molto Ettore Sozzas. Sono stati dei vivai, erano degli studi con dentro 10-15 ragazzi che venivano da tutti i paesi del mondo, che facevano uno stage da loro. Loro hanno aiutato questi ragazzi e tanti di questi ragazzi, se pensi oggi 4-5 architetti più famosi, voglio dire, l'altro giorno ero a Monte Napoleone e guardavo gli architetti appunto che vengono nominati. Sono tutti della scuola di Ettore Sozzas e di Mendini, cioè la scuola era la scuola della libertà. Ettore diceva la decorazione, che sia la decorazione di un tavolo, che sia la decorazione di un vestito è sempre la stessa cosa, è sempre un fatto estetico, è bello o non è bello. Infatti se tu guardi le architetture di Ettore Sozzas non sono sempre legate alla funzionalità, c'è anche la funzionalità, però c'è anche il gioco, c'è anche il decoro. E poi rompere gli schemi, perché se no, io ho capito questo, per esempio questa cosa del seno nudo, no? Il seno nudo all'inizio faceva scandalo e io dicevo ma perché deve fare scandalo? È una cosa così bella, a me piace così tanto, cioè perché deve piacere agli altri, non deve piacere agli altri. Allora avevo fatto fare queste foto di questa ragazza che abbiamo visto anche prima e le ho fatte pubblicare e a un certo punto arriva un pretore da Palermo, anzi avevano i carabinieri da Palermo e mi dicono Fiorucci lei sa che con questa foto qui invita, non so cosa invitavo, però a un certo punto dobbiamo sequestrarle. Allora staccano un'etichettina che avevo lì sopra il mio tavolo che mi faceva compagnia, ho detto va bene. E mentre glielo dicevo, dico scusi ma con tutti i problemi che avete in Sicilia, la mafia, mica la mafia, pensate che due segni di una ragazza possano scombinare. E dice noi eseguiamo quello che ci dicono di fare, però voglio dire ci si abitua anche a capire, invece vi racconto una cosa molto divertente, non so se avete visto quella foto nostra, famosa, dove c'è una ragazza nuda con due manette rosa dietro, la conoscete? Se non la conoscete vi manca qualcosa di bello. È una ragazza bellissima che ha un sedere bellissimo, noi abbiamo fatto delle manette con dei gioielli e lei è nuda e tiene le mani legate dietro dalle manette, no? Allora mi manda a chiamare il giurì della pubblicità e mi dice Fiorucci, ma lei sa che con questa foto rischia di mettere, invitare gli uomini a mettere prigioniere le donne? E io resto stupito, come mettere prigioniere le donne? Questo qui è per fare giocare le donne, cioè a un certo punto lo scopo non era quello di mettere le prigioniere, è quello di invitarle a capire che il sesso è la cosa più bella del mondo e bisogna anche giocare, non è solamente per fare i bambini. Allora a un certo punto ho incominciato a vedere qualche giudice, erano 6-7 avvocatoni di quelli di 60-80 anni così, ho incominciato a vedere che sorridevano, poi dico non so se avete mai provato ad avere una fidanzata giovane, ma voglio dire fa anche l'amore, a me gli piace anche giocare, è una che scappa in cucina, vuole essere rincorsa, è una che voglio dire, non è che il sesso sia al centro delle cose, è anche la bellezza, è il guardare. Allora ho incominciato a vedere che sorridevano, dopo un mese mi è arrivato che c'era stato un equivoco e si era equivocato lo scopo per cui era stato quello, non era mettere a prigioniere la donna, ma era un gadget, un gioco, una cosa. Per dire che poi il giudice è anche intelligente, però la pressione che viene fatta sul giudice è quella di dire, guarda una donna nuda legata diventa pubblicità della moda, ma non era una donna legata, era una donna che giocava, giocava come poteva giocare con dei gioielli, come poteva giocare con un paio di mutandine, cioè non era prigioniera, era volentieri prigioniera di questo gioiello. Senti, non c'è oggi Oliviero Toscani, però io so che avete avuto una lunga collaborazione, raccontaci qualcosa. Io parlo molto volentieri di Oliviero perché Oliviero Toscani è un mio carissimo amico, uno dei miei cari amici e io sono orgoglioso di averlo presentato a Luciano Benetton. Adesso vi racconto qualcosa di Oliviero perché è molto molto più interessante di Fiorucci. Cioè Oliviero Toscani è arrivato alla Benetton e lui mi ha detto, non penserai, siccome è stato io a presentarlo, dice non penserai che io vado alla Benetton a dire che i gol di Benetton sono più belli di quelli di Missoni, perché alla fine non è vero e io non lo dirò mai. Allora gli ho detto, non ti preoccupare, non è che ti chiama certo per dire che i gol di Benetton sono più belli di quelli di Missoni. Vai a parlare con Luciano Benetton che è un uomo intelligente, vedrai che ti dice qualcosa di più bello. Ho insistito tanto finché Oliviero è andato a trovare Luciano Benetton e lui gli ha detto, io voglio, Oliviero gli ha detto, io voglio fare una comunicazione che sia una comunicazione spirituale della Benetton, non che parli solo dei maglioni, ma che parli del problema umano e i maglioni fanno parte anche, ma è il vestito, ma c'è il contenuto che vale di più. Allora, per esempio, la prima foto che lui ha fatto, ha fatto, non so se vi ricordate, una ventina di ragazze o 15 ragazzi e ragazze, cinesi, neri, bianchi, tutti con i maglioni che saltavano. Sotto c'era scritto United for Color of Benetton. Ha avuto un tale successo questo poster che Benetton ha cambiato il nome, non si chiama più Benetton, si chiama United Color of Benetton. Poi ha fatto altre foto, ha fatto una foto, per esempio, famosa, dove c'era un uomo, un ragazzo ammalato di AIDS nel lettino, con i due genitori vicini, perché stava morendo, e un signore scrive a Oliviero Toscani, mi ha fatto vedere la lettera, dice, ma non ti vergogni per far vendere qualche maglione in più a Luciano Benetton di fare una fotografia di un povero ragazzo che muore con avvicino i genitori, e lui gli scrive, mi dispiace, però Luciano Benetton venderà qualche maglione in meno di quelli che magari aveva previsto, però voglio far vedere quanto è pericoloso l'AIDS e quanto invece bisogna essere attenti alla cura dell'AIDS. E pertanto ringrazio il signor Luciano Benetton, che è stato così generoso di pagare una pubblicità non per vendere maglioni, ma per vendere educazione civile alla gente. Poi un'altra cosa fantastica che ha fatto, voi sapete che in Place Vandome, mi sembra che... Dove c'è il Ritz? Cos'è il Place Vandome? A Parigi. Eh? A Parigi. Credo. Sì. Allora, un giorno è arrivato con una gru, un profilattico fatto con la tela da paracadute e chiamando tutta la televisione di tutto il mondo, ha appeso con una gru altissima questo profilattico sulla torre, sull'obelisco del Place Vandome. Tutte le televisioni l'hanno vista e tutti hanno parlato del profilattico, perché se no era tabù parlare del profilattico una volta. Voi non vi rendete conto? Oggi si parla di profilattici, è una cosa normale, è una cosa di igiene, è una cosa di buonsenso. Allora non si poteva parlare del profilattico, allora lui ha voluto fare questa cosa che ha scioccato tutti, però questa è la vera comunicazione. Comunicazione, l'anima, comunicazione l'anima dell'azienda, l'onestà dell'azienda, non il mio golf è più bello del tuo. Cioè io sono un'azienda che si occupa della salute dei miei clienti, si occupa della salute dell'umanità. Questa è la nuova comunicazione, questa è la nuova cultura dell'industria. Non si migliora il mondo con delle chiacchiere, si migliora il mondo spendendo soldi. Loro hanno speso, mi ricordo, spendevano 70 miliardi all'anno per fare questa pubblicità in tutti i paesi del mondo d'Europa. Non d'Europa, del mondo. Grazie. Ecco, io so che voi siete molto stanchi. Un'ultima cosa. Due parole su questo progetto Love Therapy. Sì. Ah, Love Therapy. Allora, l'idea era questa, che quando io ho venduto il marchio Fiorucci, assieme al marchio si vende l'icona. Dire che uno vende due angeli non è bello. Si deve cedere l'icona, viene ceduta l'icona, senza prezzo, cioè voglio dire, fa parte del patrimonio dell'azienda. Quello che è successo è che io mi sono trovato senza un'icona. E allora io ho pensato che i due angeli erano talmente belli, non so chi se li ricorda, ma erano due angiolini, uno biondo e uno muoro, che guardavano il cielo con un'aria stupita, come se veramente avessero visto qualcosa di meraviglioso. E tutti erano affezionati a questi angioletti. Noi affacevamo una scatolina di latta, ci mettevamo dentro una t-shirt, ci mettevamo un goccio di profumo, chiudevamo la scatolina con una cartavillina e ormai il regalo della t-shirt Fiorucci che portava gli angeli o portava altre icone molto gentili era diventato il regalo classico per chi veniva a Milano e poi andava, tornava a casa. Le ragazze dicevano papà vai a Milano, mi compri una maglietta Fiorucci di questa taglia e tutti tornavano a casa con questa icona, questa cosa. Quando io non ho avuto più gli angeli, ho dovuto trovare un'altra icona e mi è venuta in mente un'idea che quando io ero piccolo, siccome vi ho detto prima, io sono molto legato alla campagna, tornerò in campagna, perché quando ero piccolo sono nato in campagna, allora alla fine l'idea era quella di trovare un'icona che venisse dal mondo della natura e io ho pensato che nella fantasia infantile, anche nella mia, c'era questo di trovare dei nanetti, come se i nanetti fosse possibile una vita parallela di qualche cosa di più piccolo di noi, no? Noi eravamo dei giganti, però nel mondo sotto le piante, sotto gli alberi, sotto i boschi immagini sempre che ci sia una vita di animali più piccoli. Allora mi è venuta in mente questa dei nanetti, abbiamo fatto disegnare un nanetto buono, con gli occhi azzurri, gli occhi tondi, così, e abbiamo inventato questa parola, che non è un'invenzione una parola, sono parole del vocabolario, che usavamo noi, Ippi, che era love therapy, cioè peace and love, cioè che vuol dire pace e amore, love therapy, terapia della dolcezza, terapia dell'educazione, terapia del rispetto del prossimo, terapia di tutto, c'è una terapia che ci fa molto male, che è quando ci trattano male, io quando mi trattano male resto molto male, ci sto male veramente, quando mi trattano bene vorrei abbracciare chi mi tratta bene e volegli bene, per cui ho capito che c'è un meccanismo semplice nell'uomo che è la paura, allora ho inventato un altro slogan, fine della paura inizio dell'amore, quando una persona ti mette paura, poi capisci che non ti fa paura, ma anzi che ti vuole bene, tu di colpo gli vuoi bene, allora l'altro slogan che funziona è, l'abbiamo fatto sul cartone fuori, fine della paura inizio dell'amore, oppure fine della paura inizio della vita, perché molte volte tu non osi, per esempio trovi una fidanzata bellissima e non osi neanche diglielo e così perdi la felicità, lei non osa dirtelo, perdi la felicità, oppure voglio dire questo, perdere il coraggio di dire le cose come sono, se vieni rifiutato pazienza, però almeno hai detto quello che pensavi, cambia molto dalla paura alla non paura, quando tu hai detto le cose e non hai avuto paura, hai fatto un grande passo avanti nella tua cultura, nel tuo modo di essere, sei più sicuro? Credo.